Buongiorno a tutti, in questo video vi parleremo del recente approvazione della legge di conversione del decreto PNRR che ha portato una modifica sostanziale al decreto esattivo 81-2008 nello specifico all'articolo 27. Analizzeremo i contenuti di questo provvedimento e proveremo a ragionare di quelle che sono le conseguenze che potrebbero avere all'interno dei nostri sistemi di gestione per la sicurezza. Vi ricordo che sul tema degli appalti all'interno di Amsafe è presente un modulo specifico che potete attivare gratuitamente all'interno dello shop per tre mesi che potrete utilizzare illimitatamente durante la durata del periodo di prova e che permette oltre alla redazione del DUPRI di effettuare anche la verifica di donità tecnico-professionale, la condivisione di documenti con gli appaltatori, il remind delle scadenze dei documenti direttamente agli appaltatori, la gestione del controllo degli accessi per l'ingresso degli appaltatori, la gestione dei subappalti e infine la verifica non solo della documentazione dell'azienda che voi ritenete necessaria per poter permettere l'accesso ma anche dei singoli lavoratori. Le slide che vedrete in questo video le potrete scaricare gratuitamente accedendo al sito Amsafe, cliccando su formazione e slide per la formazione potrete scaricarle in formato PowerPoint liberamente modificabile. Vi ricordiamo infine che potrete rimanere in contatto con noi tramite la pagina Facebook Amsafe, il gruppo Facebook chiuso Amsafe Community, l'account Twitter chiocciola Amsafe IT, la pagina LinkedIn Amsafe, il nostro canale YouTube dove troverete tantissimi video sia tutorial della nostra piattaforma sia le diverse registrazioni dei nostri Amsafe Speed Training che abbiamo tenuto in questi anni. In questo video parleremo di quelle che sono le modifiche apportate all'articolo 27 del Decreto Esativo 81-2008, in particolare il comma 1 che parla dei soggetti destinatari della patente a crediti e i requisiti per poterlo ottenere. I commi 2 e 4 che trattano l'autocertificazione dei requisiti e cosa succede qualora dovessi autocertificare il falso. Il comma 3 i decreti attuativi che saranno necessari per poter far funzionare la patente, i commi 5 e 10 che parlano del punteggio iniziale e di quello minimo per poter operare, i commi 6 e 7 e 9 che riguardano le modalità di decurtazione dei punti e le varie situazioni che determinano una perdita dei punti. Il comma 8 e 3 le sospensioni a seguito di eventi incidentali, il comma 11 le sanzioni in caso di lavoro in mancanza della patente, il comma 12 il portale nazionale al sommerso, il comma 13 il monitoraggio sul funzionamento della patente che il ministero dovrà attuare dopo la messa in prova, il comma 14 ulteriori settori a cui potrebbe essere stesa in futuro la patente e infine il comma 15 che parla dell'esclusione della patente a crediti per alcune aziende certificate SOA. Allora, il provvedimento si tratta della legge 29 aprile 2024 pubblicata il 30 di aprile numero 56 che non è altro che la conversione in legge del decreto legge 19-2024 che era il decreto così chiamato PNRR. Già il decreto di marzo prevedeva una riscrittura integrale dell'articolo 27 così come era stato predisposto all'interno dell'81. All'interno di questo articolo 1 della legge che riporta le modifiche al decreto ci sono anche le modifiche a quello che è l'articolo 29,19 del decreto legge 19-2024 che a sua volta modificava l'articolo 27. Senza andare a scervellarsi su le modifiche apportate il nuovo testo sovrascrive integralmente quello che era già previsto nel decreto di marzo. Quindi a differenza di trovarci delle parole cambiate qui troviamo un testo completamente nuovo e sovrascritto quindi anche di facile lettura rispetto ad altri casi. Iniziamo col comma 1 che sono i soggetti destinatari e quali sono i requisiti per ottenere questa patente. Viene ribadito che la patente a crediti è applicabile al momento alle sole imprese e i lavoratori autonomi che si trovino ad operare all'interno dei cantieri temporanei immobili ex titolo 4. Chiaramente non si parla di uno specifico codice a teco dell'impresa quindi di per sé qualunque impresa che accede a un cantiere temporaneo immobile dovrà avere la patente. Viene però prevista due esclusioni. Chi effettua una mera fornitura di materiale, chi magari deve portare in cantiere solo della merce acquistata da un'impresa per consegnarla e le prestazioni di natura intellettuale. Quindi immaginiamo il consulente che magari accede o il progettista che accede al cantiere per un'attività di controllo dei lavori. In questo caso per questi soggetti non è prevista la patente a crediti. Viene anche in qualche modo introdotto anche il tema delle imprese straniere e per le imprese lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d'origine e già qui bisognerà capire uno se esiste un documento equivalente e se mai non esistesse un qualcosa del genere cosa possiamo farci rilasciare dal paese d'origine. In più, in un caso non appartenente all'Unione Europea, a quel punto ci vanno dei documenti riconosciuti invece secondo la legge italiana. Prevedibilmente si può pensare che l'autocertificazione preveda il possesso di requisiti di quei documenti simili a quelli che vengono richiesti per noi. E vediamo quali sono l'iscrizione alla Camera di Commercio, la formazione di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e lavoratori, il possesso del DURC, il possesso della valutazione rischi, il DURC, il documento unico di regolarità fiscale e la designazione dell'RSPP. Quindi questi sono i documenti necessari per ottenere la patente. Ma come si ottiene? A differenza del decreto precedente, che prevedeva l'istituzione di un portale dove andare a caricare questi documenti, per poi l'ispettorato avrebbe fatto una verifica dei contenuti e, a fronte di quella verifica, il rilascio della patente, in questo caso invece è prevista l'autocertificazione. Quindi il datore di lavoro autocertifica il possesso dei requisiti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il DPR 445 del 2000. Quindi una dichiarazione con valore però penale di quello che sto dichiarando. Fino a quando questa patente, prevedibilmente questa autocertificazione andrà caricata su un portale, che potrebbe essere quello del lavoro sommerso di cui parleremo dopo, e a fronte di questo caricamento verrà rilasciata una patente. Comunque nell'emore del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento con l'autocertificazione, salvo diversa comunicazione notificata dall'INL. Cosa succede? Qualora venisse rilevato che l'autocertificazione era falsa, cioè si certificava qualcosa di non vero, c'è la revoca della patente e solo dopo 12 mesi sarà possibile richiederla. Questo significa che in caso di falsa dichiarazione, oltre al penale, oltre alle sanzioni perché mancava quel documento obbligatorio che comunque sono previsti, in più ci sarebbe anche per 12 mesi l'impossibilità di lavorare all'interno dei cantieri temporali e mobili. Non mancano i decreti attuativi, in particolare su come presentare la domanda e i contenuti di questa patente, oltre ai presupposti e al procedimento per la sospensione. Quindi vedremo nel futuro dei decreti che andranno a esplicitare alcune attività pratiche legate alla patente. Fino ad allora bisognerà capire se la patente sarà già attiva o semplicemente dal 1 ottobre sarà sufficiente l'autocertificazione. Come i 5 e 10 parlano del punteggio iniziale minimo. In sé questo non ha subito grosse modifiche, quindi è ancora previsto un punteggio iniziale di 30 crediti e un punteggio minimo di 15 sotto i quali non è possibile operare all'interno dei cantieri. Ricordiamo, parliamo sempre di attività all'interno dei cantieri. Quindi un'impresa che dovesse avere una patente con 10 punti non potrà operare nei cantieri temporanei mobili, ma potrà operare ad esempio su altre attività non in titolo 4. Sarà previsto un ulteriore decreto per le modalità di attribuzione di punti aggiuntivi. Ricorderete che nel decreto di marzo si prevedeva qualche punti, mi pare 5 punti in più, per chi avesse avuto un modello di organizzazione e gestione secondo A231. Qui non viene più esplicitato questo bonus, ma si rimanda a un decreto, che magari potrebbe prevedere anche altre situazioni, come le certificazioni dei sistemi di gestione ad esempio. E in più le modalità di recupero dei crediti decurtati. Se il decreto legge prevedeva il recupero tramite corsi di formazione, in questo caso non viene esplicitato nel testo della norma, ma si rimanda appunto al decreto specifico. Sui rescesi sotto i 15 crediti, semplicemente, non si potrà operare nei cantieri. In continuità con quanto previsto nel decreto di marzo, sarà possibile, in caso di sospensione della patente, completare l'attività oggetto dell'appalto in corso al momento della sospensione. Tuttavia, a differenza del decreto, viene posto un limite. Ovvero, solo quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Quindi, se ho effettuato almeno, diciamo, un terzo del lavoro previsto. Se è stato fatto meno di un terzo, la sospensione è immediatamente attiva. Il fatto della dilazione alla sospensione è legato al fatto che voi dovete pensare che alcune, soprattutto in caso di eventi molto gravi, verranno applicati solo in caso di passato ingiudicato. Significa che io, magari a causa di un grave infortunio, la riduzione dei punti potrei subirla come impresa anche a distanza di diversi anni. E quindi non è una cosa immediatamente attiva per cui l'evento capita, io perdo i punti e quindi quel cantiere lo devo interrompere. Potrebbe capitare in un altro cantiere, magari con altre condizioni. Commi 679 ci parlano di come verranno decurtati i punti. Anche qui è previsto la decurtazione in caso di provvedimenti definitivi in carico a datori di lavoro, dirigenti e anche preposti. Quindi qualora un preposto venisse condannato, passato ingiudicato, per una condanna per lesioni colpose o peggio, omicidio colposo, i punti verrebbero comunque detratti all'impresa. A differenza del decreto che riportava nel testo dell'articolo 27 i punti da detrarre, questi vengono rimandati a un allegato un po' più colposo che è l'allegato 1 bis che va a inserirsi quindi dopo l'allegato 1 dell'81 che sono le situazioni che determinano la sospensione dell'attività in base all'articolo 14. E noteremo che diversi punti dell'allegato 1 bis ricalcano proprio i punti dell'allegato 1. Viene anche specificato che se vengono commesse più violazioni di quelle previste all'articolo 1 bis i punti saranno sì la somma, ma questa somma non deve eccedere il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Quindi se subisco tre, se mi contestano tre violazioni da due punti i massimi punti che mi possono togliere saranno quattro. Sono provvedimenti definitivi quelle che sono le sentenze passato in giudicato e le ordinanze in giunzione divenute definitive. Quindi parliamo di situazioni in qualche modo definite. Rimarrà da capire in che situazioni si stagliano i provvedimenti verbali di prescrizione secondo il decreto esattivo 758 del 94. Veniamo all'allegato 1 bis per una veloce scorsa di quelli che sono le violazioni e quindi la decurtazione in crediti. La mancata elaborazione del DVR 5 punti, la mancata elaborazione del piano di emergenza e evacuazione 3 punti anche se in questa fase dove applicabile solo alle imprese che operano nei cantieri questo punto potrebbe essere di difficile applicazione, l'omessa formazione e addestramento 2 punti. Vorrei richiamare quelle che sono alcune circolari che l'INL aveva emanato a fronte della legge 215, quella sulla sospensione, dove si parlava anche lì di omessa formazione e addestramento. In quel caso è stato esplicitato che si deve intendere la contestuale assenza di formazione e addestramento. Quindi la sola mancanza della formazione o la sola mancanza di addestramento non determina la sospensione dell'attività e prevedibilmente non determineranno la decurtazione dei crediti. L'omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione 3 punti, l'omessa elaborazione del POS 3 punti, l'omessa fornitura dei DPI contro le cadute 2 punti, la mancanza di protezione verso il vuoto 3 punti, la mancata installazione e armature di sostegno 2 punti, il lavoro in prossimità di linee elettriche senza le procedure ex CEI 1127 2 punti, la presenza di conduttori nudi in tensione senza le procedure della CEI 1127 2 punti, la mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti 2 punti. Su questi punti anche qui li trovate all'interno dell'allegato 1 e la circolare dell'INL specifica che si parla di lavori elettrici. Quindi se io svolgo lavori elettrici con la presenza di conduttori nudi in tensione e allora si applica la sospensione dell'attività o in questo caso prevedibilmente la decurtazione dei punti. qualora invece sia presente un cavo scoperto perché magari si è elogorato ma non sono in corso lavori elettrici ma è semplicemente un'attività normale non si ha la sospensione e prevedibilmente non si avrà la decurtazione dei punti. L'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo 2 punti. L'omessa notifica l'organo di vigilanza dell'inizio dei lavori che prevedono la rimozione di amianto 1 punto. Mancata valutazione dei rischi da rinvenimento di ordini bellici, 3 punti. L'omessa valutazione rischio biologico e sostanze chimiche, 3 punti. Anche qui è prevedibile allo stato attuale che sarà prevista la decurtazione dei crediti solo in caso di contestuale assenza del rischio biologico e del rischio chimico. Omessa individuazione delle zone a rischio di radiazioni ionizzanti, 3 punti. L'omessa valutazione rischio e annegamento, 2 punti. L'omessa valutazione dei rischi per lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, 2 punti. Omessa valutazione rischi collegato all'impiego di esplosivi, 3. Non si parla quindi di atmosfere esplosive ma di esplosivi veri e propri. Lavoratori irregolari da meno di 30 giorni, 1 punto. Lavoratori irregolari tra 30 e 60 giorni, 2 punti. Lavoratori irregolari oltre 60 giorni, 3 punti. E altri fatti specie, determinate i lavori irregolari, 1 punto. L'infortunio del lavoratore, che determina un'assenza superiore ai 60 giorni. Dove c'è stata una violazione delle norme sulla prevenzione infortuni, chiaramente, dove determina un'inabilità però per più di 60 giorni, 5 punti. L'infortunio del lavoratore, che determina un'inabilità permanente al lavoro, 8 punti. Un'inabilità assoluta permanente al lavoro, 15 punti. La morte, 20 punti. Malattie professionali, 20 punti. Chiaramente qui, invece, parliamo di sentenze passate e ingiudicate. Commi 8 e 3, sospensione a seguito di eventi. Come era già previsto nel decreto di marzo, viene lasciato all'Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di sospendere. Era previsto fino a 6 mesi, adesso diventano 12, fino a 12 mesi la patente di un'azienda senza aspettare la decurtazione dei punti. Questo potrà avvenire in caso di morte del lavoratore o inabilità permanente assoluto o parziale. Come avrete visto, nel comma 3 che abbiamo già citato dopo, già citato prima, è previsto un decreto del Ministero che andrà a definire quelli che sono i presupposti e il procedimento per l'adozione di questo provvedimento, perché chiaramente non essendo più una tabella, qui diventa estremamente soggettiva questa possibilità e quindi è necessario che venga regolamentata bene. Quindi è una buona cosa l'avere inserito questa previsione che prima non c'era. Comma 11, cosa succede qualora un'azienda dovesse operare in un cantiere senza la patente? È prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e non inferiore a 6.000 euro. È l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici e per sei mesi. Viene anche previsto cosa ne faremo di questi soldi che verranno eventualmente raccolti. Comma 12, portale nazionale sommerso. Le informazioni relative alla patente verranno annotate in un'apposita sezione del portale nazionale sommerso, che è un portale previsto da diverso tempo ma che mi risulta ad oggi ancora non esista. Quindi andremo a vedere come verrà gestito. La legge prevede anche un periodo di monitoraggio che dovrà essere avviata entro 12 mesi dall'entrata in vigore. Quindi ci sarà comunque un periodo durante il quale si andrà a verificare il funzionamento della patente per eventualmente apportare ulteriori modifiche. E' previsto, come era già previsto nel decreto di marzo, la possibilità di estendere anche ad altri settori la patente a crediti, che dovrà essere prevista però attraverso appositi decreti che dovranno essere scritti sentendo anche le organizzazioni sindacali. Infine l'essoa. Se era già previsto l'esclusione dell'essoa dalla patente a crediti la novità è che questo si applicherà solo per l'essoa pari o superiori alla categoria 3. Quindi oltre i 516 mila euro di lavori. In realtà la situazione non cambia molto perché di nuovo parliamo di un'attestazione che in realtà non entra nel merito della sicurezza sul lavoro ma più che altro dei mezzi e delle maestranze in grado di realizzare certe opere. però tant'è quindi non è più per tutte le soa ma solo per determinati livelli. Rimane quindi da capire tutti i vari decreti attuativi che dovranno essere emanati e poi vedere l'inizio del funzionamento per comprendere se questo provvedimento otterrà i risultati attesi. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo il nostro sito www.imsafe.it 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 Grazie a tutti.